Ciao a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Forest Village Allora ragazzi, ho passato un po' di ore off camera continuando a fare spedizioni Purtroppo ho fatto praticamente 5 spedizioni sempre per trovare nuovi animali Ma tutte le volte, sono andato a buon fine tutte e 5 Ma tutte le volte mi scopriva solo il mulo da Soma A me è venuto il dubbio poi che io dovessi fare in realtà Vedete qua ci sono i vari tab Dovessi fare prima una spedizione per gli animali, poi una per la cultura Fate tutte queste, riprendere un nuovo ciclo Non so in realtà se questa effettivamente era la cosa corretta da fare O se per via di tutte le varie mode che ho messo magari si è buggato qualcosa Quindi non mi dava nuovi animali Fatte che a questo punto ho deciso di installare un'altra mode Che adesso tra poco vi faccio vedere Che praticamente ci rende disponibili tutti gli animali e tutte le culture Fin da subito senza dover inviare le spedizioni Avrei preferito farlo sinceramente in maniera classica appunto con le spedizioni Ma come detto ragazzi credetemi ho passato veramente tipo 4 ore in totale off camera A preparare altre 5 spedizioni come detto tutte sono andate in porto Ma a parte il mulo da Soma non mi dava nulla Quindi ne ho approfittato per mettere anche qualche altra mode Così visto che siamo diciamo verso la fine di questa serie dedicata a Forest Village Penso di farci ancora un episodio Ne ho approfittato anche per installare altre mode da farvi vedere Allora intanto la mode che vi dicevo è questa Culture and Animals Che praticamente vedete che ci dà tutte le culture e gli animali Tranne il mulo praticamente Direttamente dalla partenza della partita Quindi avete tutto sbloccato diciamo da subito Per quanto riguarda altre mode che ho messo Ho messo questa mode qua Che praticamente ci dà nuovi animali e nuove culture Che adesso tra poco vi faccio vedere Sono veramente fighissime Poi ho messo una la chicken coop Che l'ho riattivata perché non ce l'avevo attiva Che praticamente anche qua dà delle cose aggiuntive Delle casette aggiuntive diciamo sempre per le galline Ho messo la funeral house Che è una sorta di casa cimiteriale Insomma dove appunto seppelliscono Perché la cripta contiene mi sembra massimo 5 posti Invece qua arriviamo a 40 persone Che possiamo diciamo mettere all'interno 40 defunti E poi ho messo una nuova casa Che anche questa è una pensione per addirittura 42 villager Quindi insomma è veramente veramente un bel po' Di spazio in più rispetto insomma alle classiche case Quindi vorrei farvi vedere diciamo anche queste nuove mode Quindi come vedete io sono andato un bel po' avanti Ci sono un bel po' di modifiche dal precedente episodio Che vi faccio vedere subito Allora intanto qua ho completato la zona diciamo nuova Aggiungendo appunto un'altra casa Aggiungendo anche questa che era sempre una mod Che si chiama Village Shelter Che praticamente dà del cibo aggiuntivo Che dovrebbe essere questo cibo qua Eccolo qua Lo Shelter Meal Che dà 34 calorie E lo fanno loro in automatico Vedete non bisogna selezionare nulla Si vanno semplicemente a mettere gli operai all'interno E appunto andranno a fare direttamente diciamo la carne Adesso non so quali risorse gli servono nello specifico Perché ne ha dentro un bel po' Però mi sa che gli manca ancora qualcosa Ma forse gli mancano un po' di erbe Ancora perché ne abbiamo Ne abbiamo solo 31 Sì infatti avevo tra l'altro anche rimesso Mi sembra il raccoglitore di erbe Vediamo un attimino se l'ho messo o se l'ho tolto No forse l'avevo tolto No in realtà no L'erborista c'è sempre Quindi glielo lasciamo Anzi ne mettiamo due Va così raccoglie un pochino in più Quindi anche questo Shelter È veramente molto carino Ve lo faccio vedere giusto un attimino al volo Una mod fatta molto bene anche all'interno Vedete con tutti i tavoli Diciamo gli scaffali col magazzino Ci sono anche dei letti Però non credo che funga comunque da casa Diciamo penso che siano i letti per gli operai Che ci lavorano all'interno C'è il camino Insomma è veramente molto molto carina Anche dall'interno Poi cos'altro ho messo in questa zona Come vedete ho messo un'altra Diciamo coltivazione di frutta e verdura Così ne abbiamo una in più Dato che iniziavo un attimino a scarseggiare Sia con la frutta che con la verdura Adesso come vedete abbiamo ripreso alla stragrande Poi gli ho messo un'altra zona per le galline Queste sono galline diciamo normali Gli ho messo anche una statua per abbellire un attimino Gli ho messo anche gli spaventapassari Perché non so se questo giardino è soggetto anche questo Diciamo a uccelli che mi vanno a mangiare i semi Quindi io per sicurezza diciamo ho messo due spaventapassari Gli ho messo dei giochi qua nel centro Che comunque gli danno una felicità aggiuntiva Gli ho aggiunto il pozzo Gli ho aggiunto anche lo scambio equo Perché così almeno riescono a trasportare diciamo le risorse Da una parte all'altra perché adesso il villaggio inizia ad essere un po' grandino Quindi ho preferito mettere uno scambio equo qua Così almeno si smistano automaticamente le risorse E gli ho messo anche un bel bagno che insomma il cesso Sempre fa comodo Con la mod dedicata a un numero maggiore di animali Vi faccio vedere che ci sono anche una gran varietà di galline in più Rispetto a quelle normali C'è la stia che è quella classica diciamo di default Dopodiché abbiamo aspettate che tiro via questo Ecco abbiamo questo Che è l'additional animal Che praticamente ci dà il milky co-pasture Che non so assolutamente cosa sia Il mitico o pasture Ci dà poi le varie galline di vario tipo Ci dà quelle bianche, quelle brown Quindi quelle marroni Il common chicken coop E ci dà il chicken coop diciamo normale Quindi abbiamo più varietà di galline Non ho ancora verificato cosa cambia Se magari fanno più uova, danno più carne Un tipo o l'altro Credo di sì ma sinceramente non ho avuto tempo di verificare E poi ovviamente abbiamo finalmente tutti gli animali Quindi i mucche, abbiamo i maiali E abbiamo le pecore Che per la lana ci servono veramente un sacco Come vedete qua i due recinti di galline Che sono tutte uguali Mi dice che non hanno cibo A parte che vabbè qua ne possiamo mettere 96 Perché l'ho fatto un po' più grande Nonostante loro hanno l'avena Mi dice che però sono senza cibo Quindi credo di dover creare appunto un pastone Diciamo così per gli animali aggiuntivo Che è dato dalle mod A me effettivamente si è aggiunto questa cosa Il fooder Che si fa sempre nella panetteria Ma per farlo ci richiede fieno Ci richiede l'acqua E ci richiede l'avena Quindi credo che comunque questo sia Anch'esso per gli animali Per cui io a questo punto direi che faccio una bella cosa Vado innanzitutto a costruire un'altra panetteria Se riesco magari qua Perché qua ci stava Ci stava filo Ma mi sa che non riesco per via del terreno Ma quello non è un problema Vediamo di appiattirlo subito Di modo che qua andiamo praticamente a preparare Diciamo così il pasto Per le nostre belle gallinozze Almeno non hanno problemi di sorta Quindi qua facciamo un piano di questo tipo Andiamo ovviamente a dargli la priorità E dopodiché vedremo anche tutti gli animali Intanto che qua spianano Intanto un lupo è morto di vecchiaia Ce ne può frega di meno Vedete che risorse si sono salite tantissimo Pietra ne ho quasi 6.000 Di legno ne ho 1.500 Minerali ne ho 1.000 passa Di argilla ne abbiamo 5.000 Insomma fieno 6.000 Poi questo cos'è? Legna d'ardare 7.000 passa Insomma anche col pesce siamo risaliti Ho messo anche un'altra capanna dei cacciatori Insomma ho fatto un bel po' di lavori Uova ne abbiamo quasi 1.000 Quindi direi che a livello di Diciamo così di provviste ci siamo Non abbiamo problemi Per le culture ho ampliato questa zona Ho ampliato un attimino questa zona E ho fatto dei nuovi campi E come vedete le culture sono ben diverse Perché avendo sbloccato tutte le culture Avendo quelle aggiuntive date dalla mod Che oltre agli animali c'è anche delle nuove culture Abbiamo il cavolo Vi faccio vedere qua Abbiamo cavolo, gran turco Lino, erba, avena e patata Cose che avevamo già La zucca che anche questa è una cosa nuova E appunto il grano che anche esso avevamo già Quindi ho piantato qua del cavolo E qua ho piantato della zucca Quindi anche questa cosa molto molto interessante Facciamo una cosa Facciamo intanto un'altra panetteria di qua Ottimo La facciamo magari con l'ingresso Rivolto da questo lato Perfetto Così gli andiamo anche subito subito A dare la priorità Ottimo Almeno vediamo di preparare un po' di cibo Sempre che sia quello giusto Per le nostre galline Perché come ho detto francamente Non ne ho la più pallida idea Quindi speriamo Speriamo che sia quello giusto Adesso il fooder non l'hanno ancora portato Lo stanno preparando qua in panetteria Ma mi sa che lo stanno portando adesso Perché mi segna che ne ho zero Quindi mi sa che lo stanno portando adesso Devo capire dove va sto fooder Perché qua i lupi non va Non credo vada neanche i muli No perché qua è la zona dei muli Quindi non abbiamo problemi Ah tra l'altro i muli mi sono aumentati un sacco Qua ne abbiamo due E nella fattoria Quella del castello Guardate qua che roba Guardate mi sono aumentati da soli E tra l'altro c'è il solito lupo di guardia Quindi qua ne abbiamo ben 15 Per cui anche questa una Gran bella cosa Qua abbiamo il solito mulo Che invece ci produce farina In maniera assolutamente perfetta Quindi fighissima anche quella mod La donkey mille Veramente spettacolare Qua abbiamo quell'altra di lupi Vediamo quando e se gli porteranno questo fooder Io spero Spero vivamente di sì Allora devo fare un'altra zona Dedicata però Per l'appunto agli animali Potrei anche farla qua Andando a togliere questi due campi grossi Perché tanto abbiamo in uno il campo E nell'altro Sì scusate Abbiamo in un campo il grano E nell'altro abbiamo le patate Però in realtà io potrei andare Tranquillamente a distruggere Questi due campi Quindi andiamo un attimino A togliere questa A togliere questo Ok Così qua metto gli animali Voglio mettere almeno le mucche E le pecore E qua metterò a questo punto Altri campi Quindi Vado già a fare Così facciamo una zona campi Insomma Tutta Tutta insieme Che secondo me sta Decisamente meglio Anche a livello estetico Quindi possiamo fare qua Ad esempio Un bel Campo magari di grano Lo facciamo bello grosso Così il grano ce l'abbiamo E poi andremo a fare Magari qualcos'altro Eventualmente Tanto poi qua Mi posso sempre allargare E continuare appunto La mia zona Di coltivazione Qua gli ho messo ovviamente Tutta la stradina in pietra Che stanno finendo Di sistemare Quindi direi Di mandare avanti Un attimo veloce il tempo Così almeno Costruiscono questo E mi demoliscono Questi due Almeno qua in centro Mettiamo gli animali Così sono anche più sotto controllo Che anche se abbiamo i lupi da guardia Comunque non mi fido E di conseguenza Insomma Sempre meglio Prevenire Che curare Dato che qua abbiamo Anche tutto questo spazio Che in realtà Non è utilizzato Io invece In questa zona Potrei anche mettere Un bel Diciamo La mod Quella della casa Quella gigante Per 40 persone Non sarebbe male Come idea Quindi facciamo intanto Un bel piano qua Anche qui gli diamo Ovviamente La priorità Ridammi La lista Sino che le persone Sono qua Fooder e il cibo Per le galline Ok abbiamo avuto La conferma Perché vedete Qua ancora non gliel'hanno portato Infatti mi dice Che le galline Ci hanno fame Qua gliel'hanno portato Ecco qua il fooder E invece mi dice Che appunto Sono a posto Per quanto riguarda il cibo Quindi ok Allora in questa Che andiamo a fare Gli diamo Assolutamente Il fooder Perfetto Vediamo il panettieri Giusto 4 su 4 Perfetto E qua gli facciamo produrre Per l'appunto Il fooder Che è già direttamente Vicino alle galline Mentre Alla nostra Storica panetteria Andiamo avanti Per adesso A produrre pane Che va benissimo Così Almeno continuiamo Anche a produrre pane E siamo Siamo tranquilli Adesso c'è Temporale Che di una manda La nebbia Della miseria Non si vede un cacchio Ma comunque Va bene Che qua mi stanno Demolendo le ultime cose Qua van benissimo I campi direi che vanno Assolutamente bene Io metterei magari Il gran turco Qua dai Seminiamo gran turco Che tanto anche da quella Possiamo comunque Rientra sempre come grano Quindi va benissimo Così Me lo da come gran turco E anche grano Però vabbè Dovrebbe essere in teoria La stessa cosa Non abbiamo grossi problemi Perfetto Allora qua abbiamo fatto Lo spiazzo Quindi Iniziamo ad andare a mettere Subito Le nostre Belle Pecorelle Quindi io farei Un bel recinto Magari Grande Così Di pecore Perfetto E ne andiamo a fare Un altro Di mucche I polli Tutti morti di fame Che cavolo è E portategli Lo sto fooder Maledetti Ammazza quanto Magnano Questi mi stanno Schiattando tutti di fame Ma mangiano Mangiano da far paura Ragazzi Dunque Dopodichè Io qua Avevo fatto lo spiazzo Perfetto Per la casa Quella gigante Che sono assolutamente Curioso di mettere Non è la casa padronale Non è l'ostello Dovrebbe essere questa L'additional house Dovrebbe essere La town pension Esattamente Che è gigantesca Ragazzi Questa è gigantesca Anche perché può tenere Ben 40 paesani Quindi assolutamente Mi devo allargare di qua E non so bene Anche questo Il Milkico Pasture Che cosa mi dà Perché è sempre Un recinto In realtà Quindi forse Quello per Ah sono Questo credo Che sia quello Per le mucche Da latte Forse E quindi Questo è per le mucche Invece da carne Sempre utilizzando La mod Eh si Questo credo Che sia per fare L'allevamento Dedicato solo Alle mucche da carne Quell'altro invece Alle mucche da latte Speriamo che gli portino Cibo Ok il lupo va di guardia Ottimo Oh non mi segarla Ah ok Che spavento No visto che facciamo Un movimento strano Ho detto speriamo che non mi Non mi vada a segare La pecora Perché se no È veramente un bel problema Così almeno avremo Finalmente la lana Per poter fare anche I vestiti Eh diciamo Quelli Invernali Proviamo a fargli allora Le mucche da latte Che è quello Della mod Sì messa così Ci sta Direi che va bene Dopodiché Gli faccio poi fare Qua La Una discesa Diciamo Un attimino Più morbida Quindi andiamo a fare subito Il terraforming Con magari appunto Una discesina Un attimino Più Decente Eh Già così va meglio Porca miseria Ma quanto cacchio mangia Abbiamo 60 Però gli devono portare Però veramente Mangiano Mangiano una quantità Esagerata Non vorrei Che sia perché Io ho messo I Questi polli qua In realtà Non sono quelli Della mod Sono quelli Originali Cioè la classica Stia originale Quindi facciamo Una bella cosa Allora facciamo così Per sicurezza Perché mi sembra Che stiano a magna Un po' troppo Ok allora Ho tolto Tutti i polli di qua Li ho dovuti Segare tutti Abbiamo fatto Una bella scorta Di carne E Perché purtroppo Non mi fa demolire La zona Insomma La stia Se ci sono animali All'interno Perché sto facendo questo Perché voglio provare A mettere i polli Della mod Perché Per l'appunto Queste stie Sono quelle Di default Non vorrei Che col fatto Che c'è la mod Per le galline Perché vedo Che queste Mangiano Una quantità Una quantità Assolutamente Esagerata Di cibo Mi sembra Un po' troppo Quindi le demolisco Dopodiché Vado a Sostituirli Con quelli Della mod E così Vediamo un attimino La differenza Insomma Se effettivamente È così Tanto abbiamo fatto Un bel po' Di carne Che va bene So qua mi stanno Costruendo Gli hanno già portato Tutte le risorse Ok Mi stanno costruendo La mega casa Ah qua la mucca È già arrivata Perfetto Qua la mucca C'è già In realtà Ok Ne possiamo tenere Nove E in teoria Ci dovrebbe dare Dell'attimo Spero che gli portino Ovviamente Il cibo Nel più breve Tempo possibile Comunque anche qua Mangia il food Vedo Che comunque Anche la capra Mangia il food Quindi mangiano Tutti il food Va bene Come ricerca Ecco io ho completato Tra l'altro La ricerca del castello Sto facendo La mine ventilation Che riduce il tempo Dell'estrazione mineraria Questa è una ricerca nuova Mi mancano tra l'altro Due libri Che andiamo subito a comprare Perché tanto qua Il pesce ho continuato A portarlo Quindi comunque ne abbiamo Per cui andiamo a prendere Altri due libri Così iniziamo anche Quella ricerca Qua non ho più fatto nulla Anzi no In realtà si Sto facendo questa Che praticamente Dovrebbe essere L'ultima Ricerca Che ho disponibile Perché poi Ho la pastura Rotation Che però mi richiede Il latte Che io ancora Non ho Perché appunto La mucca L'ho messa adesso Ok qua il cibo Gli hanno portato Sì vedete Gli hanno portato Il food E mi richiede appunto Il latte Cioè mi produce Scusate Il latte Ecco perché gli portano La carne Perché in realtà La carne Serve per il lupo Che c'è all'interno Quindi ecco perché Gli portano anche La carne Io non capivo Perché Gli portavano anche La carne Infatti vedete Gli porta La carne E la carne È quella che si mangia Il lupo Perché il lupo Ovviamente fa la guardia A quel recinto Fighissima sta cosa Ok Non ci avevo fatto caso Allora Niente Qua non gli portano Continuano a portargli La carne del lupo Come detto Io non ho modo Di togliere il lupo Eventualmente di qua Per cui Vabbè Gli lasciamo dentro Questo sta lì Continua a schiattare E pazienza Poi tanto lupi Come detto Comunque vedete Che abbiamo Siamo sempre al massimo Quindi non è assolutamente Un problema Ok Siamo all'inizio della primavera Quindi abbiamo una mara di persone Per cui andiamo a rimettere I tre raccoglitori Andiamo a rimettere Al massimo La frutta Andiamo a rimettere Ovviamente al massimo I campi Perché abbiamo anche Tutti i campi nuovi Da fare Ok La gallina c'è La gallina adesso Effettivamente c'è Quindi Vediamo un attimino Se gli andranno A portare Il cibo Perché qua nel finale Abbiamo 61 Di fooder E quindi Dovrebbero In veria Portarglielo Io ero curioso Di capire Se effettivamente Glielo andranno a portare Anche qua c'è il lupo Quindi bisognerà Poi vedere Se Gli andranno anche Portare La carne Al lupo Un'altra cosa Che vorrei fare E l'upgrade Al castello Ci richiede un botto Di roba 1500 addirittura Di pietra Però le risorse Le abbiamo E lo facciamo Perché diventa Ancora più grosso Quale galline Come stanno andando Allora qua la carne Gliela portano E solo al recinto Delle mucche Che non lo porta Potrebbe essere anche Un bug Potrei provare Eventualmente A demolirlo E a rifarlo Quindi andiamo Un attimino A tirar via Le mucche Provo Semplicemente Un attimino A demolirlo E provo a rifarlo Perché magari Semplicemente Si è buggato Una costruzione Può essere Quindi proviamo Un attimino Qua a togliere Questo recinto E niente Glielo posso Anche andare a rifare Senza Senza Troppi problemi Ok Qua il campo Sta iniziando Si perfetto Qua il grand tour Come l'hanno seminato Ottimo Così abbiamo anche quello Mettiamola qua in mezzo Che così va a dare anche Un po' di felicità Visto che tanto da qua Il pascolo l'ho tolto Tanto qua Non mi serve Quindi mettiamo un'altra Torre dell'orologio Che ci sta Assolutamente Allora Esatto Funeral house Ah è proprio tutto il cimitero Bello questo Però qua non mi ci sta Nella maniera Più assoluta Allora Facciamo una cosa Direi che qua Gli vado a costruire Una casa normale Quindi Una Una magari di questa Una casa piccolina Dai qua Non voglio mettere cose Troppo esagerate Quindi mettiamogli una casa Piccolina Così Ma è giusto Per riempire Questo spazio Direi che va Assolutamente bene E Dopodichè invece La funeral house Eh cavolo Potevo metterla qua Effettivamente Potevo anche Metterla qua Già che c'era Avrei potuto Metterla lì A meno che Non vado a spostare Tutto il discorso Degli animali Si vedete che adesso Le galline comunque Mangiano senza problemi E in quantità Normali Diciamo Poteva mettere Anche qua Il postulatore Dell'orologio Però questa D'altro l'hanno anche Già costruita La torre Con l'orologio Mi piace Mi piace un sacco Eh Se no La potrei mettere Anche qua Potrei iniziare A ingrandirmi Diciamo In queste zone Fare un Magari uno spiazzo Qua E mettere qua La funeral house Magari sopra Il castello Potrebbe anche Non essere Una cattiva idea Quindi Vediamo Eventualmente Di fargli Magari un piano Qua Magari Fatto così Ok Qua gli facciamo Un bel piano In modo che Possiamo andarci A costruire La nostra Il nostro cimitero Insomma Perché poi Ora della fine È un cimitero In tutto e per tutto È veramente Veramente figo E poi Come ripeto Con tutte le mod Acquista ancora più valore Guardate che bello Sto campo di Gran Turco Mamma mia Spettacolare Cioè anche a livello Grafico È veramente figo Anche a livello Grafico È veramente Veramente Uno spettacolo Magari vediamo Se nell'ultimo episodio A questo punto Che farò Prossimamente Magari Aggiungere Qualche altra mod Eventualmente Vedo se c'è Qualche altra mod Diciamo carina La potremo aggiungere La potremo anche aggiungere Ok Qua mi hanno fatto Lo spiazzo Che mi serve Per cui andiamo a fare La funeral house Se ci stiamo Bella grossa Anche questa Ma qua ci sta E secondo me Sopra il castello Direi che ci sta tutto Dai Sopra il castello Direi che ci sta tutto La mettiamo qua Gli diamo Assolutamente La priorità Perché vorrei Riuscire a vederla Dai Almeno in Questo ultimo gameplay Vorrei riuscire a vedere Guardate che bello Il castello Upgradato Mamma mia Spettacolare Non hanno ancora finito I lavori Ma Comunque a livello grafico Già lo vediamo Rialzato Hanno alzato Decisamente di più Le torri Quindi Spettacolare Possiamo anche Tra l'altro Addirittura Upgradare Tutte e quattro Le torri E anche questo Allora è una cosa Che assolutamente Andremo a fare Assolutamente Andremo a fare Quindi andiamo a tirarvi Intanto un po' di alberi Di qua Perché abbiamo bisogno Di alberi Quindi per adesso Disboschiamo Il più possibile Perfetto L'oste Ah un oste Finalmente ha creato Un libro Alleluia Alleluia Che i miei paesani Hanno ripreso anche A fare i libri Perché prima Non li facevano più Ed era un bel casino Io voglio assolutamente Upgradare la torre Quindi Upgradiamo Tutte le torri Tutte e quattro Ovviamente Sono curioso però Di andare un attimo Solo a vedere Voglio un secondo Vedere questa casa Com'è Perché Mi fa entrare No perché Ok c'era Un dislivello Quindi passiamo di qua Scusate No perché Io voglio vedere Anche le mod All'interno Anche perché Vedete All'interno Sono fatte Veramente bene Guardate il magazzino Qua c'è una sorta Di cucina E poi Dovrebbero esserci Tutte le stanze Adesso qua Non mi fa Ah no Adesso mi fa andare avanti Sì qua c'è una sorta Di altra cucina E qua in teoria Si dovrebbe salire Appena di sopra Dove poi Ci sono tutte le stanze Veramente Veramente Figa Sta mod Intanto abbiamo 37 neonati Ragazzi Mamma mia Eh sì Eh sì Cavolo Che spettacolo Stato ora Ragazzi Guardate quanto è Adesso è proprio Notte Quindi aspettate Che mando un attimo Avanti veloce Così La vediamo di giorno Ok E decisamente Più alta Rispetto a quell'altra E ancora non è finita Devono ancora finire Di costruire Ma guardate Quanto è più alta Rispetto a questa Quindi decisamente Decisamente più alta E praticamente Il doppio Diciamo 38 Dai sì Perfetto Torre di pietra Migliorata E volendo Mi sa che addirittura Posso migliorare Ancora sì Devo sbloccare Però la ricerca Arte Nella fortificazione Ma guardate Quanto è bella Cioè con le torri Guardate la differenza Fra le due Fra questa E questa Così è decisamente Meglio E anche il castello Iden come sopra Per migliorarlo Ulteriormente Credo di dover Mettere ovviamente Le Diciamo Di dover far la ricerca Sulla Sulla fortificazione Però quella Al massimo Vedrò di portarla Avanti Off camera Intanto c'è un tornado Che sta Arrivando Pensavo fosse di qua Invece no Speriamo che non giri Da questa parte Va bene ragazzi Allora comunque Io direi che posso concludere qua Questo nuovo gameplay Dedicato a Forest Village Già mi ha fatto Una marea di cose Stiamo facendo Finalmente La lana Devo rimettere Un attimo Le mucche Per il discorso Del latte Magari potrei Metterle qua Facendo anche Un recinto Un po' più grosso Potrebbe Non essere male Tanto loro qua Hanno comunque La stradina Che scende Abbiamo anche La nuova zona Veramente bella Con la torre Dell'orologio E quant'altro Qua Molto realistico Anche il fatto Che non cresce l'erba Penso che crescerà Poi l'anno Successivo Dato che c'era sopra Appunto La costruzione Però insomma Anche qua Con la torre Dell'orologio Direi che Mi sta piacendo Veramente Veramente tanto Stiamo arrivando Quasi a 200 abitanti Grazie anche appunto A questa casa Che insomma Tiene solo lei 42 persone Quindi direi che Abbiamo veramente Un sacco di abitanti Vedrò Off camera Come va Il discorso Delle risorse Ma vedo che Comunque sta andando Benissimo Perché abbiamo Pesce e carne In abbondanza Vuova Non ne parliamo Frutte e verdura Iden come sopra Insomma Abitanti Ne abbiamo Una quantità Industriale Quindi ho quasi Tutti i posti Di lavoro Attivi E al massimo Per cui Non abbiamo Veramente problemi Abbiamo le nostre Nuove coltivazioni Di campi Che mi piacciono Anche queste Un casino Vedremo anche Le altre Quelle che mancano E quindi Insomma Direi che abbiamo Fatto veramente Un po' di cose L'ultima cosa Anche negli alberi Da frutto Vedete che hanno Messo Le cose Differenziate Hanno messo Le mele Le ciliegie I limoni Le arance E le bacche Da Sambuco Anche queste Credo che Non ci fossero Almeno Io adesso Non mi ricordo Cos'era di default E cos'è moddato Ma comunque Anche qua Diciamo che abbiamo Vari tipi Di fruttetti Tra cui scegliere Quindi ragazzi Io vi invito Come sempre A lasciare Un sacco Un sacco I like Condividete Commentate Iscritti Iscritti Il canale Se siete iscritti Se siete Seguite Anche su Insta Lo trovate Sotto In descrizione Detto questo Vi saluto Noi ci vediamo Al prossimo gameplay Ciao belli Ciao belli Ciao belli